salve ben trovati sul giro della morte abbiamo una data storica da segnare sul calendario domenica 18 agosto 2024 l'ultimo giro dei corsari a gardaland per come li abbiamo conosciuti e amati in questi 32 anni è da tempo che i corsari sono circondati da una strana aura un'aura da fine della storia un'aura molto notturna e cupa siamo forse giunti alla fase 2 siamo forse giunti a una nuova vita per i corsari in pieno stile merlin io sono piuttosto ottimista in tal senso vorrei parlarne con voi subito dopo la silla ecco la data ce l'ha rivelata proprio gardaland sulla sua pagina instagram le navi dei corsari stanno per salpare verso nuovi orizzonti affrettati per viverli ancora una volta ai tempo fino al 18 agosto 2024 abbiamo anche un paio di prime informazioni in merito a ciò che vedremo comparire in questi nuovi corsari sull'area esterna vengono da un permesso per costruire per costruire cosa un faro scenografico all'ingresso del villaggio corsari e un portale scenografico all'ingresso dell'attrazione pirati nel parco gardaland questo significa che vedremo comparire un nuovo faro che in qualche modo arricchirà la scenografia esterna del villaggio inglese e che l'attrazione stessa avrà un portale che finora non ha mai avuto probabilmente all'ingresso della fila d'attesa tutto il resto si presta a tante interpretazioni e noi siamo qua per questo è la fase migliore quella in cui la notte sui corsari non è ancora finita ma il giorno deve ancora arrivare il momento ideale per porci tante domande ad esempio domande sul budget stiamo parlando di merlin che possiede gardaland dal 2006 e che ha mostrato di distribuire il budget ai suoi parchi in anni alterni e quasi mai ha portato a gardaland un budget alto tanti soldi in più anni consecutivi abbiamo appena avuto wolf legend una novità considerata intermedia da merlin e difficilmente il 2025 sarà l'anno caratterizzato da una novità grossa quindi probabilmente i corsari non riceveranno i classici 20 milioni dichiarati che poi in genere sono meno per la grande attrazione che probabilmente arriverà più avanti sappiamo anche che nel 2025 dovrebbero esserci anche altre novità la ritematizzazione di un'intera area tematica e con ogni probabilità nuovi spettacoli volti anche a festeggiare il 50esimo anniversario del parco quindi mi aspetterei ragionevolmente parlando non più di 10 milioni come budget per il restauro dei corsari e probabilmente già ci andrebbero bene questi 10 milioni se davvero ci fossero tutti secondo me però questa volta il budget non è un problema noi stiamo parlando dei corsari l'attrazione che è costata più di tutte le altre nella storia italiana all'epoca 60 miliardi di lire che senza considerare l'inflazione sono 30 milioni di euro il doppio credo di qualunque altra attrazione sia stata costruita in italia dopo naturalmente sappiamo come mai i corsari sono costati così tanto oltre alla meccanica della dark ride oltre a tutta la tematizzazione imponente del percorso c'è il villaggio inglese ricco di negozi ristoranti tutti tematizzati c'è la nave in cui si entra per percorrere la fila d'attesa tematizzata pure quella e soprattutto c'è lo scavo uno scavo profondissimo costruito accanto a un lago perforando una falda acquifera che ha portato tantissimi problemi proprio di acqua e questo ha alzato tanto il costo una spesa però che è stata fatta e che resta a dare valore all'attrazione quindi non si parte certo da zero che cosa succederà a questo punto se volessi allungare il discorso proporrei una serie di scenari e vi direi questo secondo me è più probabile questo secondo me è meno probabile mi permetto però di allontanare da subito lo scenario ramses jumanji quello in cui si prende un'attrazione storica la si vuota completamente lasciando magari la parte meccanica come ramses per rifare da zero la scenografia quei tempi secondo me sono passati persino per merlin non c'è budget per rifare da zero un'attrazione così grande come i corsari non c'è motivo di andare a rompere completamente il ricordo di chi ha amato i corsari così tanto gardaland è consapevole lo è diventato ormai del fatto che la sua fama si basa tanto anche sulla nostalgia di chi frequenta il parco e il legame con il passato credo che l'esperienza di tunga eliminata per raptor ma soprattutto della valle dei re eliminata per ramses abbia insegnato tanto a merlin e che in questo caso si stia riflettendo su un progetto che lavorerà in coerenza con quello che noi abbiamo conosciuto e apprezzato per tutti questi anni tutto sta in un lavoro difficilissimo di equilibrio tra il vecchio e il nuovo ed è di questo che tra poco parleremo innanzitutto l'aspetto tecnico lo sappiamo il percorso dei corsari si dipana lungo stanze sotterranee su due livelli quindi sono due piani sovrapposti è un percorso realizzato da intamin le barche sono ancora quelle del 92 e non vedo all'orizzonte rumor secondo cui dobbiamo aspettarci una sostituzione integrale del percorso un retracking o delle barche ma anche se questo dovesse avvenire aspettiamoci di nuovo intamin e aspettiamoci di non vedere alcuna differenza non ci saranno discese loop giri della morte curve strane non ci saranno espansioni attraverso l'ex cinema dinamico sotterraneo che proprio dello scavo dei corsari fa parte non ci saranno passaggi accanto alle jeep di jumanji il percorso sarà sicuramente invariato ricordiamoci che aggiornamenti tecnici ne sono stati fatti costantemente l'attrazione è stata chiusa per tutta la seconda parte del 2022 per poi riaprire l'anno successivo con dei nuovi condotti di reazione su cui molti avevano fatto tanta ironia e che poi sono stati mascherati da scenografia nel tempo poi se qualcuno di voi si immagina grandi cambiamenti nel percorso effetti speciali barche che fanno la drop verticale lo scriva nei commenti che così ci divertiamo un po assieme tutto sta secondo me nella storia nella trama e il progetto è in pasto a merlin ad essere più precisi merlin magic making il settore che si dedica alla progettazione di nuove attrazioni aree tematiche gli imagineer che in genere sono capitanati da john barton nella realizzazione di nuove attrazioni per i vari parchi merlin compresa gardaland john barton ha capitanato la progettazione anche di jumanji the adventure di wolf legend con risultati in certi casi interessanti anche dal punto di vista qualitativo stavo studiando i progetti passati di john barton che sono stati condivisi anche sul suo profilo instagram e voglio lasciare anche a voi un momento per comprendere a fondo la sua competenza la sua precisione la sua innata abilità progettuale la sua attenzione per ogni dettaglio sono convinto che saprete apprezzare se sarà lui a occuparsi del progetto per i nuovi corsari credo che potremo tirare un sospiro di sollievo anche a costo di dover sopportare eventualmente alcuni ritorni di materiali tipici merlin come le lamiere le ringhiere le reti da pollaio i furgoni presi dalla discarica la polvere in ogni angolo che fa tanto pirati del settecento fa tanto antico così come il container che sarà posizionato in una scena madre un saluto a fab parks che è tanto analizzato tutto ciò all'interno della sua serie parchi di merlin con tanta stima scherzi a parte credo che il lavoro che è stato fatto da merlin magic making per l'area di jumanji a chessington nel 2023 e poi a gardaland per wolf legend lasci ben sperare in un cambiamento qua per i corsari a gardaland il lavoro che c'è da fare è molto chiaro e non ha niente a che vedere con il budget l'attrazione c'è bisogna reinventare una storia una trama semplice lineare mai sopra le righe che cominci nel momento in cui si scendono le scale e prosegua con un pre show e per tutta l'attrazione fino al suo termine fine non si chiede molto di più può esserci oppure può non esserci un accompagnamento di un personaggio importante che ci scorta lungo il giro come una figura guida in tanti hanno sperato nel ritorno del pappagallo e meglio che torniate indietro possono esserci o non esserci degli schermi purché se ci sono siano integrati all'interno della scenografia siano invisibili siano un'estensione di ciò che succede realmente nel mondo fisico reale e aggiungano valore alla storia raccontata e quindi non sto parlando degli schermi che abbiamo conosciuto con i corsari la vendetta del fantasma dal 2018 al 2024 possono esserci oppure non esserci effetti di mapping con luci proiettate sulla scenografia purché siano coerenti con la trama e non inseriti in maniera pacchiana solo per aggiungere colore e sorpresa vedere ad esempio pirata in imbatavia a europa park dove gli effetti di mapping sono usati per proiettare sulla scenografia fisica dei momenti in cui la scenografia prende vita per via della magia quindi con una ragione piuttosto chiara ai sensi della trama gli animatronici possono essere pochi possono essere tanti l'importante è che siano inseriti dove servono e quando servono l'importante è che dicano cose sensate è meglio avere più figure magari immerse nella nebbia magari anche un po più statiche che però concorrano al racconto della storia piuttosto che pochi personaggi magari fatti benino ma messi un po qua un po la per fare numero e spara flashati dai led come succede adesso in cui vedi tutto compresi tutti i difetti e a proposito di luci visto che è di merlin che stiamo parlando vogliamo approfittarne per andare verso terreni su cui merlin è piuttosto ferrata terreni inquietanti oscuri dark magari anche un po macabri la musica la nebbia la scelta intelligente di poche poche luci possono aiutare a mascherare il budget a immergersi all'interno di mari di acque in cui non sappiamo di preciso verso dove stiamo navigando pensiamo alla scena della foresta dei vecchi corsari come era fino a qualche anno fa completamente immersa nella nebbia in una scenografia abbastanza statica ma che sembrava espandersi ben oltre i nostri confini visivi tolta la nebbia e accese le luci led come è successo negli ultimi anni la magia è scomparsa come nel cinema la regia deve lavorare assieme alla produzione a quanto costa fare quello che si sta facendo in questo caso padrona deve essere la storia la trama e dobbiamo avere un forte approccio registico come se stessimo facendo un film da che parte dobbiamo girare lo sguardo in questa scena per mascherare il fatto che dall'altra parte magari ci sono meno cose cui prestare attenzione all'interno di sale così grandi e quindi cinema puro cinema a partire dalla sceneggiatura la scrittura passando attraverso la messa in scena la costruzione delle scenografie è una visione registica che deve arrivare anche al montaggio quindi come noi vediamo le cose nel momento in cui il film prosegue nel momento in cui la barca prosegue una serie di elementi in successione delle vere e proprie inquadrature dal momento in cui noi entriamo nel villaggio e avremo un nuovo faro l'abbiamo detto al momento in cui ci avviciniamo all'attrazione e avremo un portale e poi la coda tematizzata il pre show tutta l'attrazione vera e propria manco a dirlo e poi l'elemento dell'uscita che è fondamentale con queste scale mobili che per 32 anni abbiamo viste prive di tema e chissà magari questa sarà l'occasione in cui inserire anche qui un pezzo del racconto della storia in tutto questo il budget merlin non è un problema l'attrazione c'è già ed è stata considerata per tanti anni un capolavoro a livello mondiale ciò che c'è da fare e non è poca cosa e realizzare un nuovo capolavoro a partire da essa con l'intelligenza di un regista e non con i soldi di una multinazionale quelli ci sono ma non sarebbero nemmeno necessari questa volta quello di cui c'è bisogno non è una sovrabbondanza di effetti speciali strutture imponenti scenografie oggetti ovunque tantissimi animatronici tutti a fuoco tutti illuminati come per esempio in pirata in imbatavia seppure tanto apprezzata qui va benissimo un'atmosfera molto più rarefatta qui abbiamo bisogno solo tra virgolette di ridare senso a un'attrazione storica di dare valore alla sua storia alla sua trama non credo che ci siano tanti integralisti tra noi appassionati correggetemi se avete un pensiero diverso leggerò con curiosità i commenti ma per me e spero valga per tanti non è un problema se perdiamo tutte le musiche e vengono tutte cambiate se perdiamo alcune delle scene che vediamo lungo il percorso che verranno sostituite da altre se dovremo salutare con un sorriso alcuni aspetti che abbiamo tanto amato per tanti anni questo non è un problema nel momento in cui vediamo un lavoro fatto con vera passione e con vera intelligenza e se c'è del sentimento dietro a quest'opera questo verrà compreso dal pubblico di gardaland se sarà una semplice operazione temo di no cosa intendo per operazione un lavoro un po chirurgico in cui si va a vedere gli schermi che sono stati aggiunti nel 2018 per cambiare i filmati sugli schermi che già ci sono si va a guardare gli animatronici e si dice boh questo funziona ancora questo no ne aggiungiamo uno in questa scena o in quella in modo da riempire un po di più il percorso rimettiamo sì il pappagallo giusto per fargli dire quella frase iconica che tanto manca agli appassionati ma in puro fanservice senza una visione d'insieme ecco questa è un'operazione non è chiara non è forte e spero che non ci troviamo di fronte a questo e se il budget non è un problema nemmeno il tempo a disposizione secondo me lo è da agosto fino all'inizio della nuova stagione ci sono davanti tanti mesi tanti mesi per un lavoro che secondo me non sarà poi così intenso dal punto di vista costruttivo sta tutto nel progetto sta tutto nel pensiero che sta alle spalle di ciò che verrà fatto secondo me a maggior ragione consideriamo che in un primo momento i negozi i ristoranti del villaggio inglese l'area dei corsari continueranno a rimanere disponibili e continuerà ad avere luogo anche lo spettacolo sulla nave stessa dei corsari visibile dall'area dal villaggio inglese quindi i lavori all'esterno probabilmente cominceranno abbastanza più avanti e secondo i permessi che abbiamo potuto vedere almeno per ora dovrebbero consistere in un faro e un portale quindi si possono anche fare verso la chiusura invernale al cantiere sotterraneo secondo me si entrerà direttamente da sottoterra da quel grande portellone che c'è tra i corsari e colorado botte là dove si portano tutte le cianfrusaglie verso il tunnel famosissimo che porta dai corsari a ramses la valle dei re giumanji fino al ristorante aladino ecco da lì si entra si esce si portano dentro e fuori le barche credo che tutto avverrà più o meno lì si è parlato anche della possibilità di vedere espansa l'area dedicata ai corsari ricordiamoci che è stato comprato un nuovo terreno ora di proprietà del parco sulla striscia che porta dai corsari stessi verso il parco acquatico legoland water park ricordiamoci anche che di fronte c'è un cinema dinamico ormai chiuso in un'area a tema dinosauri ma che si può facilmente ritematizzare a tema pirati io non credo che questa espansione dell'area avrà luogo subito anche perché il 2025 l'abbiamo detto è già succoso e facilmente prevederà anche altro penso però che il parco abbia mostrato di avere un po più interesse rispetto al passato nell'idea di una coerenza tematica l'abbiamo visto con l'espansione dell'area jumanji in due anni consecutivi più uno spettacolo nel terzo anno l'abbiamo visto con l'idea di realizzare aree un po più coerenti a partire da kung fu panda in poi quindi non escludo che in futuro quest'area nuova di cui abbiamo parlato e le circostanze del villaggio inglese potrebbero diventare parte di un'area coerente penso però che sarebbe saggio aspettare ancora qualche anno e da tanto tempo che disney non pubblica un nuovo film legato alla saga pirati dei caraibi e da anni che ce n'è in sviluppo un altro vedremo se vedrà la luce prossimamente e quello sarà l'anno in cui l'attenzione tornerà alta e magari si potrà pensare di approfittare di questa attenzione intorno al tema dei pirati per realizzare una nuova attrazione in un'area dedicata ai corsari naturalmente non sappiamo se cambierà anche il nome storico dell'attrazione i corsari abbiamo tempo per seguire questa e altre notizie qua sul giro della morte con i video e con le live che ci accompagneranno nel corso di tutto questo progetto nel frattempo voi cosa ne pensate i commenti sono sempre un luogo in cui proseguire assieme le riflessioni che cominciano a partire dal video vi invito a iscrivervi al canale per seguire assieme i futuri sviluppi e noi ci vediamo la prossima settimana grazie e a presto